Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con... Sbrise Deluxe Se non lo senti che è Sbrise Deluxe, iscrivetevi pure al suo canale come ve lo dico in ogni video e oggi giochiamo al dors Una volta l'avevo completato, come vi ho detto nell'altro video, con lui Ti ricordi? Quella volta là l'avevamo... Sì, ma la seconda volta l'avevamo completato insieme, se ti ricordi Ti ricordi, Andrea? Ah no, l'aga mi sono sbagliato, non era lui Era un altro mio amico, era Ciso Sì, sì, l'avevo completato con Ciso, che lui è forte Mi sono confuso... Sì, sì, giocava Mi sono confuso perché ho fatto un sacco di partite con te E dico sempre a te, ma io l'avevo finito con Ciso Però sono scarso E mi prendo gli infarchi Ok Sì Il crocifisso potrebbe essere il crocifisso Quindi fammi consigliare Perché il crocifisso? Dove si trova? Eh, c'è una bassa percentuale che si può trovare qua In che senso? In che senso R1? Vai Io ti avverso quando arriva Rush Madonna, io ho paura che esce la porta finta Andre, pure io l'ho fatto D'occhi chiusi Andre, dove sei? Ma tu mi vedi che sta andando indietro Ma tu mi vedi che sta andando indietro Mi sono confusa C'è ancora Ace? Sì, vedo la luce Io ho fatto male con Z Ok, ci sei? Andre, non la prendiamo Andre, ma se adesso guardo esce da qua mi chilla Eh? Ma se guardo esce da qua mi potrebbe chillare Si può prendere senza usarlo No Io pensavo che si poteva mettere negli item Andre Ok, io qua mi ricordo come si fa Raga, raga mia cugina ha detto che Dors ha fatto un aggiornamento dove ci sono le miniere e poi pure farlo senza, come si dice, senza completare il gioco Ah, raga, ah E poi sapete quando è finito il gioco che l'ascensore cade? Sì Sì Quando parti nelle miniere ti vede l'ascensore che cade e c'è la stessa musica Vero? Raga, comunque nel prossimo video se vi iscrivete al canale e lasciate like nel prossimo video Sì, iscrivetevi l'ho già detto prima Io e mio cugino porteremo come si chiama? Io porterò una live di Dors però prima di fare la live allora prima farò il video dove faremo Dors e Arcdor e poi forse stasera io farò la live con lui Sì No, 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 ma due cose No, il video, però almeno un video, almeno un video Art, non lo so neanche parlare, eh, eh, almeno un video Art Almeno un video hardcore lo voglio Come hai fatto? Beh bro Andrò avanti senza di te Guardami bro Raga continuiamo Andiamo avanti Andre Tu sei morta no? Sì Ok andiamo avanti Ma mi stai guardando? Sì Andre ma tu li senti i rumori se ti parli la rossa? Sì Allora dimmelo Gassi mi ha messo a tagliare la schermata Mi ha messo a tagliare la rossa Sì Andre Forse qua Dimmi se arriva qua No Devo mostracermelo Lega mi ha tirato una laggata Ah sì io qua me lo ricordo come si fa Pure se non gioco dal 1900 E lo sai che ti puoi rubare un quadro Sì vabbè No giuro E come faccio? Ehm quando finisci questo gioco Qui si apre Il portano Torni indietro Prenditi un quadro Prenditi un quadro Un quadro? Sì Come devo rubare Si Andre ma è scomodo Non è vero Andre non si capisce niente con il tuo quadro E guarda cosa è Eh appunto Gabri c'è la porta di cellulare Di chi? Non c'è il numero Quindi sei senza le porte No ho sbagliato Raga io in ogni video vado sotto il letto Chiedetemi perché Ecco di nuovo No vabbè raga Mi devono mandarti allo psicologo per il letto Gabri L'animazione di quando vai sotto il letto A me va a venire l'uncato Mi sto trattando Cosa c'è qua? Oppure Gabri Ma perché? Sei domani che possiamo fare? Quale? Ehm una sfida Che il pavimento Oh raga io non ce la faccio Ad andare sotto il letto Sono troppo abituato Hai capito? Sì Il pavimento sarà il viaggio Assoluto Mi ha fatto prendere un infarto Io ti ho detto che Allora è di là la porta Ma non gioco mai plus No scherzo La prossima volta lo faremo ancora peggio Di paura Gabri Lo sai che se arrivi la partecipante La completi Ehm poi Ti potrei prendere il precipice Con i soldi Andre c'è Non ci credo Madonna Ma raga mi ha fatto uscire Pena il cuore Vabbè raga Per questo video è tutto Noi ci vediamo alla prossima Ciao 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 Grazie.